Ragazzi! Ma cosa ho visto? Ma Griezmann, ma che gol! Ma che gol di Griezmann! Madonna! 1-1 al 61esimo! Ma ragazzi, ma che gol di Griezmann! Antoine Griezmann, ma che gol! Ma che gol, ragazzi! Ragazzi, ma guardiamo qui! Qui, 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 qui! Cross di testa! Ma ragazzi, ma che gol! Qui da Pazzo è tutto per tutti, ragazzi!